Apriamo questa prima edizione del nostro giornale con la catechesi che oggi Papa Francesco ha tenuto nel corso dell'udienza generale del mercoledì che è stata trasmessa in streaming dalla biblioteca del Palazzo Apostolico. Incentrata sulla preghiera e proprio a proposito della preghiera il Santo Padre ha detto che ha la capacità di aprire squarci di luce anche nelle tenebre più fitte. Allora ascoltiamo insieme le parole del Pontefice. A volte noi possiamo credere di non aver bisogno di nulla, di bastare a noi stessi e di vivere nell'autosufficienza più completa. E dalle volte succede questo. Ma prima o poi questa illusione svanisce. L'essere umano è un'invocazione che a volte diventa grido, spesso trattenuto. L'anima assomiglia a una terra arida, assettata, come dice il Salmo. Tutti sperimentiamo in un momento o nell'altro della nostra esistenza il tempo della malinconia o della solitudine. La Bibbia non si vergogna di mostrare la condizione umana segnata dalla malattia, dalle ingiustizie, dal tradimento degli amici o dalle minacce dei nemici. A volte sembra che tutto crolli, che la vita vissuta finora sia stata vana. In queste situazioni, quando sembra che tutto crolli, in queste situazioni apparentemente senza sbocchi, c'è un'unica via di uscita, il grido. La preghiera Signore, aiutami La preghiera apre squarci di luce nelle tenebre più fitte Signore, aiutami Questo apre, apre la strada, apre il cammino Nella intimità del nostro cuore, se noi siamo in attesa, e tante volte non ci accorgiamo che il Signore è vicino, che bussa alla nostra porta, e lo lasciamo passare. Ho paura di Dio quando passa, diceva Sant'Agostino Ho paura che passi e io non me ne accorgo E il Signore passa Il Signore viene, il Signore bussa Ma se tu hai le orecchie piene di altri rumori, non sentirai la chiamata del Signore Fratelli e sorelle, essere in attesa Questa è la preghiera Grazie